bravissimo no man dai un bacino non è vero troppo fortino hai capito dove non fa bene lui scappi a girassi come fosse meglio uno 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 guarda l'obiettivo d'entra scusate il campo non posso far peggio troppa forza perché se l'uomo da battere è corta tutia se possiamo cortina non è dentro ma come no ma scusa la linea sarà questa ok ma non è che è a cerchio è un cerchio non è un ok ma deve essere dentro deve essere così vabbè ci sta che si riunite quanto più forte giusto bravo bobbè bravissimo anche un posto è vero questa è un po come la tua dai no ma infatti adesso facciamo i pignoli dopo andiamo a vederlo ma io cortina anche quel tallone è perfetta giusto giusto dentro si ferma si ferma è capito il gioco lunga lunga out out aia campione c'è più no dai granulata neanche questa dai un bacino 5 no ma è bellissima davide se prendo un connetto è bellissimo ho detto male eh l'ambulanza è fastidiosa eh però va bene si è un giocatore davvero forte fortina eh fortina fortina one up ma mi sa ancora un fortina no? lenta forse vai che bacino va dentro di a ma sempre a setta andavi eh buona palla eh buona palla eh buona palla eh oh fortunello 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 fortuna ma se fai 1-4 tu vieni come alle sembrano borghetti se fai fermare e ripaltare risultati se fai 2 wads se fai 2 wads io vieni supolo me but ho buono eh buona Grazie.